Vincenzo Fiorillo siamo ormai a una decina di giorni dal debutto ufficiale che Pescara sta nascendo per quella che è la tua esperienza tu che sei ormai insomma un senatore, hai visto altri gruppi, stai vedendo nascere questo gruppo? Ma come dicevo prima questo secondo me è un Pescara che per qualità tecniche si avvicina parecchio alla squadra che centra la promozione però sto parlando di qualità tecniche per fare qualcosa di importante ci vuole tantissimo lavoro alle spalle e tantissime altre componenti che vanno al di là delle qualità tecniche quello che posso dire è che stiamo da ormai un mesetto lavorando veramente bene c'è grande disponibilità e c'è la voglia di provare a costruire un gruppo forte e vincente Con Zauri come va? Stiamo lavorando bene in questo periodo ora, in questi giorni che sono già trascorsi abbiamo iniziato a sposare qualche principio poco alla volta cercheremo di divertirci, cercare di divertire un po' le persone che ci seguiranno ma soprattutto di cercare di vincere le più partite possibili attraverso prestazioni importanti frutto del lavoro provato durante le settimane Con te spesso parliamo di questa caccia al record come portiere che ha il maggior numero di presenze in biancazzurro però ora si aggiunge un altro elemento potrebbe arrivare la fascia di capitano dopo l'addio di Brugman ci pensi a questa ipotesi? Ne avete già parlato? No, non ne abbiamo parlato è normale che se dovesse essere così sarei felicissimo sarei felicissimo perché credo di aver dato in questi anni non tanto in campo ma anche fuori nei comportamenti dei segnali importanti all'interno dei gruppi nei vari anni quindi sarei orgoglioso, sarei onorato ma se non fosse così non cambierebbe di una virgola il mio modo di essere è normale che avere la fascia è una responsabilità grande ma dovranno essere poi i miei compagni a essere più che altro contenti se io la dovessi portare Giocatori vanno e vengono nel calcio però Gaston Brugman non è un giocatore qualsiasi era il capitano di questa squadra un giocatore leader tecnico possiamo dire che messaggio vuoi lanciare? anche per ricordare questo ragazzo che ha dato tanto alla maglia biancazzurra guarda onestamente da quando sono qua Gaston è stato uno di quei giocatori non quello che più attirava gli occhi per le qualità che aveva era un piacere giocarci insieme sono contento per lui perché se è questo quello che voleva ha la possibilità finalmente di misurarsi con una massima serie io gli auguro il meglio il mio sogno rimane quello di lo stesso suo però magari provarlo a fare con questa maglia grazie a tutti